Bisognerà attendere ancora per conoscere le sorti del Consiglio Comunale di Cellino San Marco in provincia di Brindisi, finito nel mirino della Prefettura per presunti condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La commissione di indagine, composta dal Vice Prefetto di Bari da Bicco, dal dirigente della Prefettura di Brindisi Albertini e dal tenente del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Lorenzo, ha ottimato il suo lavoro meno di una settimana fa, dopo cinque mesi di indagini. Ora tocca al Prefetto di Brindisi, Nicola Prete, che ha a disposizione 45 giorni di tempo predisporre e indiare una relazione al Ministero dell'Interno, non prima di aver sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine, la Sicurezza Pubblica e il Procuratore della Repubblica competente per territorio. Entro tre mesi dalla trasmissione della relazione del Prefetto, il Ministro dell'Interno dovrà decidere se portare il caso al tavolo del Consiglio dei Ministri e successivamente proporre un eventuale decreto di scioglimento. A provocare il terremoto nel piccolo centro Brindisino erano state le dichiarazioni dello stesso Sindaco Francesco Cascione, a margine di un incontro in Prefettura, in merito alle spese sostenute dall'amministrazione per l'esequio di un pentito di mafia. Al di là del singolo episodio, a provocare l'intervento della Prefettura di Brindisi, anche il clima di tensione è provocato da numerosi attentati incendiari e intimidatori avvenuti in Paese, che potrebbero essere considerati tentativi della criminalità organizzata di condizionare il regolare e trasparente andamento della cosa pubblica. Nel mirino della criminalità erano finiti infatti lo stesso Sindaco, alcuni assessori e dipendenti comunali, oltre a imprenditori del posto. Grazie. Grazie.